Mark Zuckerberg sta passando veramente un momentaccio, non solo deve occuparsi delle udienze del congresso, ma sembra che una buona parte di internet lo odi o come minimo dubiti della sua umanità. E non si tratta dello scandalo di Cambridge Analytic, è a causa del modo in cui si presenta. Quindi in questo video vi mostrerò le tristi ragioni per cui alcune persone hanno più difficoltà nell'ottenere fiducia di altre ed è più facile vederle come potenzialmente cattive. Ed è anche per questo che le reputazioni negative tendono ad essere loro accollate, non importa cosa facciano. Vi aiuterò anche a capire se state perdendo fiducia senza accorgervene. E in più vi insegnarò cosa fare per riaverla. Quindi prima di tutto come principio a noi umani piacciono e ci fidiamo delle persone che ci mostrano di non avere nulla da nascondere e questa non è solo una metafora. Vedere l'interno della mano di qualcuno, vedere il loro palmo, tende a mettere a proprio agio le persone. In realtà la stretta di mano ebbe origine come un modo per mostrare che nessuna delle due persone avesse un'arma in mano. Ma Zuckerberg non mostra quasi mai i suoi palmi, il che porta ad una sensazione di turbamento. Purtroppo non è solo con le mani che Zuckerberg sembra trattenersi, infatti uno dei suoi tratti più adatti al suo meme è il suo sorriso, che molto spesso sembra scomparire di colpo. Questo contribuisce ancora di più a distruggere tutta la fiducia che potrebbe essere stata costruita, perché la velocità con cui il suo sorriso scompare implica che sia sicuramente falso. Dopotutto molte persone non riescono a passare da un sorriso sincero ad un'espressione così neutrale, così velocemente. Quindi presumiamo inconsciamente che il sorriso sia stato una forzatura. Allo stesso modo, quando Zuckerberg fa degli sbagli mentre parla, cerca di nasconderli molto velocemente. È nervoso e non vuole che il pubblico spenda tempo nel concentrarsi su qualsiasi cosa che possa fargli ridere di lui. Ma la sua inabilità nel lasciare spazio di una battuta lo porta ancor più in basso, quindi guardate questa clip per avere un esempio. Se vi state chiedendo come gestire le situazioni imbarazzanti in un modo più carismatico, guardate come Chris Evans se ne occupa nella prossima clip. Lascia che la battuta fatta su lui abbia il tempo di finire, ride di se stesso e chiede perfino di rivedere la clip della battuta così da poter ridere ancora. Quasi tutti gli esempi che vedrete di persone che definiscono Zuckerberg robotico, inclusi alcuni dei quali abbiamo appena visto, rientrano nella categoria di lui che si comporta in modo incongruente, il che credo sia uno dei più grandi difetti di carisma. In breve, congruenza è quando ciò che stai dicendo e come lo state dicendo coincidono, quando non succede è incongruenza. Quindi per avere un esempio perfetto di incongruenza c'è una vecchia battuta di Seinfeld su una donna che fa così ogni volta che sente una battuta divertente. Questa incongruenza da manuale, ciò che sta dicendo non corrisponde alle sue espressioni facciali. Ecco Will Smith d'altro canto che mostra che aspetto abbia la congruenza. Gli occhi, il sorriso, il tono e le parole stanno tutti ad indicare che a lui in effetti piace essere. Ed è proprio qui che Zuckerberg finisce nei guai, basta che lo ascoltiate parlare della missione di Facebook nella prossima clip. Questa è un'area in cui vi aspettereste un po' di passione, una variazione del tono di voce, ma ecco quello che invece succede. Tutto ciò non è affatto congruente ed è importante sapere che quando i segnali verbali e non si contraddicono a vicenda, non ci fidiamo di quelli verbali e non ci fidiamo neanche delle parole. Quindi in questo caso ci ritroviamo a chiederci quale sia davvero la missione di Facebook. Forse qualcosa di davvero più perfido? Ecco un altro esempio di questa incongruenza nella prossima clip. Qui Zuckerberg sta parlando del suo filtro preferito di Instagram, ma non sembra particolarmente entusiasta a giudicare dalla sua voce monotono. Il sorriso di Zuckerberg spesso manca di congruenza di per sé, dal momento che non attiva mai i muscoli attorno ai suoi occhi, che starebbero a significare un sorriso più sincero. E ovviamente poi c'è il sorriso che scompare immediatamente, che abbiamo già visto in precedenza. In questo caso ho preso una clip da Colbert, che si trova in senato, da poter ascoltare così che possiate comparare come il sorriso più naturale di Colbert, anche una volta scomparso, rimane nei suoi occhi. Vedete qualcosa di simile quando Zuckerberg è confuso. Dice di non essere sicuro del significato di una domanda, ma non segnala nessuna confusione alzando le sue sopracciglia o muovendo la sua testa. Quindi ci ritroviamo a chiederci se sia semplicemente evitando una domanda con una diversione. Ed ecco perché spesso le persone fanno battute, ma la pensano così anche seriamente, che Zuckerberg sia malvagio. Una bassa congruenza equivale ad una bassa fiducia e quando non potete fidarvi di qualcuno sarete più disposti nel vedere degli intenti maliziosi. Quando potrebbe essersi trattato semplicemente di un errore o di una dimenticanza, come potrebbe essere tutto questo caso della Cambridge Analytic. Siete ancora più portati a svalutare qualsiasi storia positiva associata con quella persona, come il fatto che Zuckerberg abbia assicurato il 99% delle situazioni di Facebook in beneficenza e di come lui abbia già donato miliardi per aiutare nelle cure di malattie in tutto il mondo. Siete più portati a pensare con affetto all'affascinante Warren Buffett, che guida automodeste ignorando che Zuckerberg fa lo stesso, e siete più propensi a perdonare e dimenticare le reali pratiche monopolistiche del caro Bill Gates, ma presumete che Zuckerberg voglia assolutamente conquistare il mondo seguendo il suo piano malefico. Ora non fraintendetemi, non sto dicendo che Zuckerberg sia una buona o cattiva persona o che voi dobbiate fidarvi di lui o meno. Il mio punto in breve è che se vi manca la congruenza, le cose negative su di voi rimangono più a lungo rispetto a qualcun altro, e se avete una forte congruenza e molto carisma le persone penseranno il meglio di voi. Non è giusto, è semplicemente il modo in cui le persone sono cablate. Io credo che Zuckerberg abbia una bassa congruenza non perché sta mentendo, mentre invece spesso sembra sia così, ma perché non ha l'abitudine di esprimersi, e questo in realtà non è affatto raro nelle persone che crescono in modo timido e nerd. A volte imparano che è semplicemente meglio esprimersi senza far capire cosa stanno pensando e senza un aiuto fisico così che non vengano notati. Quindi come Zuckerberg queste persone tendono a non modulare le loro voci, o a muovere le sopracciglia, o a parlare gesticolando, o a ridere senza controllo e a nemmeno camminare muovendo le braccia. Ora, molti di noi non sono messi così, ma ci saranno delle occasioni in cui ci nervosiamo e magari smettiamo di esprimerci come al solito, il che significa che potremmo sembrare strani quando in realtà siamo nervosi o ansiosi, e la soluzione in tutti questi casi è di uscire dalla propria testa ed entrare nel proprio corpo. Quindi se vi sentite così quando siete fuori in un bar, andate sulla pista da ballo per un po' di minuti e scuotetevi un po', o se siete in un evento di networking, e non potete fare così, fatevi un giro, lasciate che le vostre braccia si rilassino, e fatevi anche uno stretching veloce veloce mentre camminate. Vi potrà sembrare strano, ma come una società siamo così fissi nelle nostre testa che spesso abbiamo bisogno di qualcosa di strano per uscirne. E quando sarete più a vostro agio nell'esprimere il vostro corpo, vedrete che le vostre emozioni fluiscono molto più liberamente, e che le vostre espressioni corrispondono alle vostre parole e diventerete più congruenti facilmente. Ciò significa che vi ritroverete a parlare così, invece che in questo modo. Inoltre, se volete dare un'occhiata al nostro video sulle quattro emozioni, il link è nella descrizione, basta semplicemente lasciare la mail per avere accesso al video, ve lo consiglio perché ha cambiato moltissime persone. Inoltre iscrivetevi, cliccate al pulsante delle notifiche, tutta quella roba divertente, insomma. In pratica non dovete davvero perdere il video di settimana prossima, perché sarà molto strano e condividerò un sacco di cose interessanti che mi sono capitate personalmente. Quindi non vedo l'ora di incontrarvi in quel prossimo video. Spero che questo vi sia piaciuto, ci vediamo molto presto!